Si chiama Montagna Accessibile, è il progetto affidato all'Università di Teramo della Regione Abruzzo che ha il compito di valorizzare le aree montane con un obiettivo di interesse condiviso a livello locale, regionale e nazionale volto a contrastare il progressivo spopolamento e la crescente marginalizzazione socio-economica che caratterizza tali territori. La strategia ha lo scopo di restituire alle aree in oggetto una competitività che sia in grado di avvicinarle a zone e territori contraddistinti da più elevati livelli di industrializzazione, imprenditorialità, digitalizzazione, occupabilità, coesione sociale e sostenibilità economica. Il progetto è un progetto della Regione Abruzzo che ringrazia per il coinvolgimento, quindi noi come Università abbiamo partecipato con le nostre intelligenze un po' nella stessura, però ovviamente ci rendiamo disponibili per la realizzazione del progetto, progetto che prevede sia una fase di ricerca, di ricerca applicata, ma soprattutto due momenti formativi molto importanti. Ovviamente non solo l'Università di Teramo, ma l'intero sistema universitario abruzzese che in questo progetto, quindi nell'ambito di questo progetto, ancora una volta si mette insieme in sinergia per valorizzare le nostre aree interne. L'Abruzzo è una Regione con un quantitativo di territorio che ricade proprio nelle aree interne, montane, molto elevato, quindi per rilanciare la nostra economia, per rilanciare anche a livello turistico la nostra Regione, dobbiamo assolutamente far sì che queste aree vengano valorizzate al massimo. E questo progetto contribuirà senz'altro a questo. Quali potranno essere le prime iniziative da mettere in campo? Le iniziative sono due corsi di formazione specifici, ma anche azioni di stimolo per costituire start-up, quindi imprese fondamentalmente turistiche, ma anche nel settore agroalimentare, ma anche nel settore della valorizzazione dei beni culturali, insomma, quindi molto molto trasversale, quindi azioni da mettere in campo da subito. Quindi formazione e ricerca applicata a trasferimento tecnologico.